un evento senza precedenti sugli schermi della televisione con la rai il grande giubileo del 2000 è di tutti il pomeriggio della domenica su rai 1 è domenica in 2000 un pomeriggio di svago e di divertimento con amadeus e la partecipazione straordinaria di piero angelo domenica in 2000 lo spettacolo che ci terrà compagnia tutte le domeniche con tanti ospiti e tanta musica un appuntamento da non perdere domenica in 2000 ore 14 rai 1 a a a a a a a Buongiorno. Oggi su Rai 1 alle 14.05 trasmetteremo I Fantastici di Raffaella Carrà, il programma abbinato alla Lotteria Italia con la regia di Sergio Iapino. Alle 14.15 dagli studi di Milano Paolo Limiti condurrà alle 2 su Rai 1. Alle 15.55 Rai 1 e TG1 presenteranno Millennium la notte del 2000. Alle 20.30 in diretta dal Palazzo del Quirinale a Reti Unificate trasmetteremo il messaggio di fine anno agli italiani del Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi. Tra poco dopo il TG1 Flash abbiamo appuntamento con la signora in giallo, solito telefilm con i sottotitoli. Buona giornata. Buongiorno. Aosta meno 12, Cuneo meno 2, Bolzano meno 9, Trieste 3, Venezia meno 3, Milano e Torino meno 4, Sanremo 4, Genova 5, Imperia 6, Bologna meno 2, Firenze meno 4, Ancona 2, L'Aquila meno 7, Pescara 2, Roma 1. Campobasso meno 1, Bari 5, Napoli 4, Taranto e Reggio Calabria 6, Palermo 7 e Cagliari 0. Ora le minime all'estero. Stoccolma meno 14, Mosca meno 5, Berlino 0, Varsavia meno 5, Londra 5, Bruxelles e Parigi 3, Ginevra meno 3, Vienna meno 8, Belgrado meno 1, Malta 8, Madrid meno 3, Istanbul 8 e Tunisi 7 gradi. Ed ecco la situazione. Un debole sistema nuvoloso attualmente sulla Francia tende ad interessare marginalmente il nord-ovest d'Italia e le sue due isole maggiori. Residue e condizioni di instabilità sono ancora presenti all'estremo sud. Tempo stabile sul resto d'Italia. Ed ora il tempo previsto fino alle 7 di domani. Vediamo. Al nord. Irregolarmente nuvoloso sulle zone più occidentali e sul settore alpino centrale. Dove non si esclude qualche piovasco ma con tendenza a miglioramento. Sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. In serata nuovo aumento della nuvolosità sulle zone alpine con possibilità di locali nevicate ad iniziare dal settore occidentale. Al centro sereno o poco nuvoloso sulle regioni terreniche. Residui a nuvolamenti sul versante adriatico ma in rapido miglioramento. Sulla Sardegna irregolarmente nuvoloso ma con nuvolosità in rapida diminuzione. Al sud della penisola e sulla Sicilia sul settore tirrenico cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni. Con tendenza a schiarite sempre più ampie. Molto nuvoloso sul resto del meridione con precipitazioni sparse, nevose oltre i 700 metri. Tendenza graduale miglioramento. Temperature in lieve diminuzione, venti deboli settentrionali con residui rinforzi al sud. Mari poco mossi, bacini settentrionali, mossi o molto mossi gli altri mari ma con moto ondoso in diminuzione. Buona giornata a tutti e soprattutto buon anno. Basta di Vella augura buone feste. Se per essere stati con noi buona giornata. Buon anno! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! I hope I don't get no coal in my stockings. Happy Holidays from Nickelodeon. You're watching Spongebob Squarepants on Nick. Up next, more Spongebob Squarepants on Nick. More Loud House is up next on Nick. You're watching The Loud House on Nick. You're watching The Thundermen on Nick. Up next, The Thundermen on Nick. You're watching Henry Danger on Nick. Happy Holidays from Nick. Stick around. Up next, Henry Danger on Nick. Up next, more Alvin and the Chipmunks on Nick. You're watching Alvin and the Chipmunks on Nick. You're watching Game Shakers on Nick. You're watching Teenage Mutant Ninja Turtles on Nick. You're watching Teenage Mutant Ninja Turtles on Nick. You're watching Niki, Rikki, Dicky, and Dawn on Nick. Yay! You're watching Nick. Keep it here. You're watching Skool of Rock on Nick. Uh-oh. Up next, Skool of Rock on Nick. Happy Holidays from Nick. Keep it here. Whoa, 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 whoa. Huh? Happy Holidays from Nick. Stick around. Season's Greetings from Nick. Stick around. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesschau zum Millenium. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen im neuen Millenium. Rund um das Brandenburger Tor feiern mehr als zwei Millionen Menschen. In diesen Sekunden läuft der Millennium-Countdown für die Briten. Die sind ja eine Stunde zurück. Und darum gehen wir jetzt, wie gesagt, sofort zu Joachim Wagner. Dall Palazzo del Quirinale va ora in onda a Reti Unificate. Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.